Mantra di Manjushinero. Guarire attraverso la sua energia. Manjushinero è la formirata di Manjushin, il Buddha della saggezza. Aiuta a guarire le emozioni negative profonde e la sofferenza mentale causate da problemi e malattie. E' anche un potente antidoto contro i turbamenti e i danni causati dalle influenze astrologiche negative. Aiuta a dominare la rabbia, la depressione, la paura e il rifiuto che sorgono quando si ha le prese con un problema di salute o con le difficoltà della vita quotidiana. Sorgo come Manjushinero. Sorgo come Manjushinero. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione